Naturalmente il saluto da Massimo Profeta in studio, in diretta, Colavitto, partiamo. Ricambio, ricambio, lui è sempre, nei miei confronti, è sempre benevolo, perché lui è un allenatore mancato, è un tattico. Massimo, questo è un complimento meritato per te da parte di Colavitto, io faccio i complimenti perché abbiamo visto, almeno nel primo tempo, forse una delle partite più belle di questa stagione, pari, giusto. Mio giudizio, posso una cosa, secondo me, un direttore di gara con il cartellino troppo fascica ai danni del pescato? Insomma, di questo comunque si è parlato in qualche riunione, diciamo così che le terne arbitrali devono migliorare, anche per loro, secondo me, ha influito l'anno di stop, degli allenamenti, insomma tutto quello che c'è stato, che abbiamo passato, però dai, alla fine sono ragazzi che ci mettono tanto impegno, li dobbiamo ringraziare. La partita? La partita è stata una bella partita, non è che questa partita qui in altri tempi magari noi l'avremmo anche persa, perché comunque in due o tre situazioni di ripartenza il pescato ci poteva fare male, però i ragazzi veramente mi stanno dando, mi stanno dando tanto dal punto di vista dell'attenzione, della voglia, dell'applicazione, non è semplice, diciamo, allenare sempre, quasi sempre un organico nuovo, diciamo di ragazzi che si devono mettere in mostra, che devono cercare di farsi conoscere, diventa, perché poi è un campionato tosto, il pescara si è calato finalmente in questo campionato, perché all'inizio ha avuto, diciamo così, un po', io il pescara lo sto vedendo bene, ora che l'ho visto di persona, comunque, può recitare, secondo me è un girone di ritorno importante. Le chiedo che cosa è successo all'Ancona-Matellica dopo il gol del vantaggio, perché per venti minuti il pescara vi ha messo in grossa difficoltà. Vabbè, ma io le ho peccati anche di gioventù, il mantenere comunque certi ritmi, l'aver paura di determinate situazioni, è un processo di crescita, è una squadra molto giovane, una squadra che comunque deve migliorare tanto, a volte sbagliamo tanti passaggi banali, semplici, le prime palle riconquista le diamo agli avversari, la scelta giusta la sbagli, il terzo uomo non lo vedi, cioè è normale che poi ne risente un po' tutta l'impalcatura, però alla fine gli attaccanti fanno gol, la difesa regge, insomma, andiamo avanti così, poi dopo ci sediamo col direttore, col presidente, vediamo un attimo come magari si può mettere mano per migliorare qualcosa. Io faccio i complimenti ancora una volta a Colavitto Massimo e gli lascio il metto l'auricolare, anzi il viva voce per una domanda da studio al tecnico dell'Ancona, vi ascolta. Sì, intanto io voglio ringraziare davvero per l'apprezzamento Gianluca, esagerato per inciso. Ho sentito, 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 guarda, io vi ascolto, vi ascolto. Spero di fare bene il mio vestire, quello di giornalista, però giro, o meglio, faccio fare la domanda a un altro allenatore presente in studio, ex calciatore Fabio Ferraresi, è più giusto che la domanda la rivolga lui a te Gianluca. Sì, ciao Fabio. Con molta umiltà, ciao mister, innanzitutto io mi accodo ai complimenti di Massimo, perché stai facendo un lavoro importante insieme al direttore da tempo e sono contento per te perché sei una persona, anche se ci conosciamo non in modo così profondo, da come appari un lavoratore, una persona in gamba, quindi è sempre un piacere quando una persona in gamba fa bene. No, poi sulla partita, tu di solito le partite che ho visto io, di solito le impronti un po' più di più su qualche lancio, qualche riconquista di seconda palla, non tendi sempre a giocare da dietro, oggi invece l'hai fatto con maggiore frequenza e questo all'inizio ha messo in difficoltà il Pescara, è una cosa che avevi preparato proprio per questa partita o ogni tanto io mi sono perso qualche passaggio lo fai anche altre volte? No, è una fase anche quella, è una fase di crescita, cioè nel senso che comunque i ragazzi sono cresciuti tanto nella prima costruzione di gioco, quindi alla fine è una cosa che comunque ci lavoriamo durante la settimana. Certamente non la forziamo alla De Zerbi maniera, diciamo così, dai, nel senso che comunque ci caliamo nella realtà e anche lì siamo abbastanza umili, quindi alla fine ho preparato, diciamo così, più aspetti contro il Pescara, più aspetti in fase di non possesso palla, queste chiusure del secondo palo da parte del quarto di centrocampo, questa roba qui ho fatto perché poi comunque a livello di costruzione i ragazzi hanno consolidato determinati concetti e quindi alla fine comunque ce li hanno, diciamo, nel DNA. Grazie a Gianluca Colavitto, un piacere averlo. Tanti auguri di buon Natale a tutti voi in studio e all'Abruzzo intero, va bene? È un abruzzese apposito. Grazie. Sì, 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 tanto sono un lancianese, però tra lancianese e pescaresi non è che... Diciamo che è l'Abruzzo nel cuore. Abruzzo è vero, è vero, Abruzzo nel cuore.